Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel solito, usuale, disordine della mia, della mia libreria. Allora, 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 allora. Dunque, oggi è il 3 febbraio 2019, si avvicina con tutto il suo carico di polemiche, pesanti, tristi e spesso stucchevoli la giornata del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano d'Almata. Io ho sempre detto che quello che accadde nei territori della Venezia Giulia e del e della Dalmazia fu un crimine spaventoso e terrificante, un crimine che vide colpiti in maniera indistinta, non solo gli italiani, ma anche gli stessi slavi, perché nelle foibe sparirono non solo tanti italiani, ma anche tantissimi slavi, croati, bosniaci, montenegrini, serbi, che furono fatti sparire non tanto per un disegno di pulizia etnica, ma come l'ha definita il mio amico facebook, Antonio Brancic, che è originario di quelle terre, dicevo fu una pulizia di tipo politico, l'eliminazione degli oppositori del titoismo. Il regime titoista provvedeva a eliminare, provvide ad eliminare i suoi oppositori. Una cosa che a me ha sempre personalmente fatto ribrezzo è che non è tanto assolutamente chi vuole ricordare quella tragedia, ma chi vuole farci credere che quella tragedia sia nata così d'amblè, dalle crudei elementi dei partigiani jugoslavi. Io vi dico soltanto una cosa, vi racconterò una storiella che non è precisamente molto bella e decisamente poco onorevole per noi italiani. Perché? Perché parlerò di questo signore che vedete in questa foto qua. Ecco, questo signore dalla capiglia è un musicista sloveno, Luis Bratos, italianizzato in Luigi Bertossi, nato a Gorizia il 17 febbraio 1902, morto sempre a Gorizia il 16 febbraio 1937. Chi era questo signore? Cioè, chi era questo signore? Cioè, un musicista, c'era un musicista, il direttore di un coro della parrocchia. Insomma, notate, c'è a tutto del musicista, dell'artista, questo signore, la sua espressione triste, la sua espressione malinconica. Cioè, tutto può sembrare tranne che un pericoloso sovversivo, tranne che un sovvertitore dell'ordine pubblico. Era, come dire, compositore, organista e maestro di cappella sloveno. Cioè, un direttore di un coro parrocchiale, insomma, praticamente. Dopo, come dire, l'unione di Gorizia e Gradisca al Regno d'Italia, Bratos divenne cittadino italiano ma rimase fedele alla sua origine slovena, cercando di difendere la propria cultura, la propria storia, dal processo di italianizzazione forzata lanciato dal regime fascista nel dopoguerra. E, come dico sempre, quando parlo di questi argomenti, per sapere di che cosa si parla quando si dice, quando si parla di italianizzazione forzata di Istria, Slovenia e Dalmazia, vi rimando a ricercare su Wikipedia il memorandum Italosauro. Italosauro, senatore del Regno, figlio della medaglia d'oro al valor militare Nazzario Sauro, aveva preparato per il Duce, per Mussolini, per il regime fascista, un memorandum programmatico per l'italianizzazione forzata di Istria, Slovenia e Dalmazia, nonché per la persecuzione e l'emarginazione delle popolazioni slavofone di quelle terre. Che cosa succede? Succede che praticamente Bratush, o Bertossi, che dir si voglia, ebbe diversi problemi per la sua silenziosa resistenza a questi processi di italianizzazione forzata voluti dal fascismo nei confronti delle comunità di lingua slovena nelle terre del Friuli, a Gorizia per la precisione. L'arcivescovo di Gorizia dell'epoca, Francesco Borgia Sedei, lo nominò supervisore dei cori di parrocchia della provincia di Gorizia. Vi lascio immaginare il pericoloso sovversivo direttore di cori di parrocchia. Ve lo lascio immaginare. Che cosa accade? 25 dicembre 1936. Bratush, o Bertossi che dir si voglia, dirige un coro parrocchiale con canzoni in sloveno e bambini che cantano canzoni di Natale in sloveno. A Podgora, quella che oggi si chiama Piedimonte del Calvario. A Podgora Bratush, Lois Bratush alias Luigi Bertossi, dirige un coro di bambini nella parrocchia in cui si cantano canzoni di natale in sloveno, che tra l'altro erano le uniche cose slovene permesse all'epoca in quelle terre. Ma che cosa accade? Accade che il 27 dicembre 1936 Bratush fu rapito da un gruppo di fascisti goriziani. Lo portarono alla casa del fascio, lo torturarono brutalmente, lo costrinsero a bere olio di ricino mischiato con olio motore e dopo un mese all'ospedale centrale di Gorizia, Lois Bratush morì dopo atroci e terrificanti sofferenze. Cioè, se volete sapere perché accaddero certe cose, dico solo questo. Guardate questo volto. Guardate questo uomo. Un pericoloso sovversivo, un direttore di cori parrocchiali massacrato di botte, assassinato perché aveva fatto cantare delle canzoni in sloveno. Si è parlato tante volte della stupidità dell'essere umano, della cieca violenza, della della terribile idiozia in cui gli esseri umani riescono a precipitare. Ma credo che mai, come in questo caso, come nel caso del maestro Bratush, si debba parlare di ignobile stupidità dell'essere umano. Un uomo massacrato, torturato e ucciso perché aveva fatto cantare a dei bambini delle canzoni di Natale in sloveno. Io dico solo una cosa. Chiedetevi perché sono successe certe cose. Chiedetevi perché quando poi quelle terre furono teatro della brutale repressione titoista accadero certe cose. Io credo che mai una dimostrazione del chi semina vento, raccoglie tempesta sia possibile. Lois Bratush, Luigi Bertossi, musicista, compositore, direttore dei cori delle parrocchie goriziane. Cioè, scusate, pericolosissimo sovversivo, evidentemente un uomo pericoloso e violento, massacrato perché aveva fatto cantare canzoni di Natale a un coro di bambini. Rubo una considerazione all'amico Fabiano Fala. Lo sapete che cosa servirebbe più della giornata oltre alla giornata del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esilio dei Giuliano Dalmati? Servirebbe anche una cosa. In tutti i paesi in Italia servirebbe una giornata del ricordo delle vittime delle violenze italiane. così come in Slovenia e Croazia servirebbe una giornata del ricordo delle vittime italiane fatte dagli slavi. In Serbia occorrerebbe ricordare le vittime fatte. Mi rendo conto che è un'illusione, mi rendo conto che è perfettamente un'illusione, mi rendo conto che è un sogno, ma che vi devo dire? Tutto sommato sono sempre rimasto un idealista e non me ne vergogno. Però pensateci, pensateci, pensateci. Occorre ricordare la tragedia delle foibe, occorre ricordare la tragedia dell'esodo Giuliano Dalmati, è vero. Ma occorrerebbe anche ricordare quello che abbiamo fatto noi. Occorre anche ricordare come ci siamo comportati noi nel ventennio fascista. Qualcuno ha detto che le foibe sono cominciate non con l'8 settembre 1943. Qualcuno ha detto che la data esatta dell'inizio della tragedia delle foibe fu quando a Trieste, nel 1922, i fascisti italiani diedero fuoco alla narodnindom, alla casa del popolo sloveno, al centro culturale sloveno a Trieste. Trieste, la città cosmopolita, città multietnica, città nella quale le etnie diverse, le diverse lingue, le diverse anime, i diversi popoli si sono sempre incontrati e hanno vissuto tranquillamente per secoli. Dare fuoco a uno dei simboli della multiculturalità della città distrugge il simbolo della convivenza pacifica. Uccidere in maniera brutale, violenta e crudele un uomo colpevole solamente di voler parlare la propria lingua, un uomo colpevole solo di aver fatto cantare a dei bambini delle canzoni di Natale in lingua slovena. Chi semina vento raccoglie tempesta? E quando semini odio, violenza, morte, quando disprezzi e opprimi, quando cerchi di assassinare la coscienza e l'anima di gente colpevole soltanto di voler parlare la propria lingua, succedono delle brutte cose, sempre. Io da italiano, da italiano, da italiano, posso a distanza di tanti anni, a distanza di più di 80 anni, posso soltanto chiedere scusa al signor Bratush, alla sua famiglia e chiedergli perdono per quello che gli è stato fatto. e niente, spero soltanto che le persone intelligenti che seguono questo canale capiscano quello che voglio dire. Io non giustifico i crimini, mai, mai. Io non ho mai giustificato un crimine, mai. Quando un crimine è un crimine, io l'ho sempre detto in questo canale e mi sono sempre scagliato contro i dittatori e i criminali, sempre. Ma quello che mi fa vomitare, quello che mi fa veramente vomitare di certa gente è lo sbandierare, il rivendicare, l'usare le vittime delle foibe per fare propaganda politica del cazzo, propaganda politica da quattro soldi. Io non sopporto chi le nega, non sopporto chi ne fa una bandiera. Perché l'ho detto più di una volta, anche in altre occasioni. Della tragedia delle foibe e dell'esodo Giuliano Dalmata non gliene frega un cazzo di niente a nessuno. Perché quelle persone vengono usate solo, soltanto e solamente come facile vessillo per fare propaganda politica da due soldi. Il crimine ci fu, io l'ho sempre detto, ed è innegabile. Ma è altrettanto innegabile che si fa troppa propaganda su questa cosa. Non si è in grado, non si vuole parlare dei motivi di quella tragedia, non si vuole ricordare quello che accadde prima delle foibe, non si vuole ricordare che il nostro comportamento in quelle terre fu tutt'altro che esemplare. Il volto di quest'uomo è uno dei simboli di quella tragedia. E poi ricordiamoci anche una cosa, quello che abbiamo combinato. Qui non si ammazza abbastanza, scrisse Robotti. Qui bisogna andare a non a dente per dente, ma a testa per dente, scrisse nella famigerata circolare 3C il generale Roatta. Se volete veramente celebrare la giornata del ricordo, prima di tutto, fatevi i compitini che vi do. Uno, uno, cercare su internet tramite Google il memorandum di Italo Sauro, che era il programma politico di segregazione, discriminazione ed espulsione ed espulsione e italianizzazione forzata delle popolazioni slave nei territori della Dalmazia, dell'Istria e della Slovenia. Uno. Due. Cercatevi il testo della circolare 3C del generale Roatta. Ripeto, la giornata del ricordo va celebrata e ricordata, perché si tratta di una tragedia nazionale. Ma ricordatevi sempre che certa propaganda, certe persone fanno solo e soltanto una cosa, sulla pelle di quei morti, sull'ombra di quella tragedia. Fanno uno sciacallaggio politico infame e rivoltante. Tutto qua. Quindi, cari signori, spero che mi perdonerete i toni seri, spero che mi perdonerete lo sfogo, spero che mi perdonerete la tirata. Questo quest'anno sarà l'ultima volta in cui parlerò della tragedia delle foibe, della tragedia degli esoli Giuliano Dalmata, perché già ne parlano in troppi. In questo canale ho la fortuna di avere in questo canale utenti intelligenti che spero capiscano il senso che voglio dare a questo video. Spero che capiate il senso del mio discorso. Spero che capiate che, se ci furono le foibe, la colpa non fu soltanto della vendetta slava, ma delle cause che causarono, dei motivi che causarono una così sanguinosa e feroce repressione da parte dell'esercito di liberazione in Jugoslavo. Tutto qua. Insomma, cari signori, io ripeto, spero soltanto che abbiate capito quello che volevo dire. Perdonate se mi sono un po' impappinato, ma è un argomento che mi causa veramente... insomma, non avevo assolutamente voglia di usare i miei soliti toni ironici e leggeri, perché si tratta di una tragedia, si tratta di una tragedia, si tratta di una ferita profonda nell'anima del nostro popolo. Che persone, a mio giudizio rivoltanti, usano per vomitevoli scopi di propaganda politica. Sia di là che di qua. Chiunque faccia propaganda politica sulla pelle dei morti delle foglie, chiunque faccia propaganda politica su quello che accadde agli esuli Giuliano Dalmati, deve soltanto vergognarsi. Sia a destra che a sinistra. E non credo che ci sia altro da aggiungere. Ho voluto ricordare questo musicista sloveno, Lois Bratoš, nato a Gorizia, di famiglia slovena, in quella che è stata per secoli una tranquilla città in cui bene o male, anche se con mille problemi, italiani e sloveni erano sempre vissuti in relativa tranquillità. Poi, un bel giorno, solo perché colpevole di aver fatto cantare dei bambini canzoni di Natale in sloveno, che poi tra l'altro era pure permesso, cioè le canzoni di Natale potevano essere cantate in sloveno, assassinato, assassinato per niente, assassinato per niente, assassinato perché a qualcuno girava così. Quando qualcuno dice e le foibe dovrebbe vedere la faccia di questo signore. Tutto qua. Quindi, niente, ripeto, scusate l'espressione seria, scusate i toni, scusate la mia mancanza di ironia in questo video. ma non mi è sembrato assolutamente il caso. Io posso soltanto dire una cosa. Ripeto, io non conto un cazzo, sono semplicemente un appassionato, sono semplicemente un autodidatta che si è costruito da solo una disordinata, inorganica e a volte incoerente cultura sulla seconda guerra mondiale. Ma ho imparato una cosa, che nel corso degli umani eventi, quando tu hai la coscienza sporca, prima o poi te la fanno pagare. Uno dei simboli, secondo me, delle foibe, della tragedia che ha insanguinato la Venezia Giulia, che ha insanguinato quella terra meravigliosa che è l'Istria, è questa. Questo volto qua. Lois Brattus. Niente. Signori, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci al prossimo video. Buonasera. Ciao.